Grande solidarietà calabrese per i terremotati obruzzesi. Due squadre, in particolare 9 unità del soccorso alpino Calabria, sono partite per dare soccorso alle famiglie ieri pomeriggio per dare il cambio ai colleghi del soccorso alpino della regione Lombardia. Le due squadre in questione, composte dal personale rappresentante alle stazioni di soccorso calabrese della Sila, della Spromonte e del Pollino, sono specializzate in soccorso in ambiente innevato e nella movimentazione con scialpinismo e su guiaccio. A coordinare sul posto l'intervento e la permanenza in Abruzzo del soccorso alpino calabrese, è il presidente regionale Luca Franzese, già membro della Direzione Nazionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Solidarietà anche da Bivongi. 8 uomini e 4 ottogarri sono partiti per prestare soccorso alla popolazione dell'Abruzzo. Una nota ditta da Cogeur ha messo a disposizione mezzi e personale a servizio dell'Enel per effettuare interventi di ripristino.